L'aula approva la legge di stabilità, 5 competenze in più per azienda zero. Bilancio di previsioni 2023-2025, iniziato l'iter d'aula. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati via libera da parte dell'Assemblea Legislativa alla legge di stabilità. Con 27 voti favorevoli e 13 contrari, il Consiglio regionale ha approvato la legge di stabilità 2023. Il documento contiene esclusivamente norme con effetti finanziari che decorrono dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. L'articolo 1 prevede il sostegno delle cooperative edilizie attraverso l'esenzione per gli anni 2023-2024 del versamento della rivalutazione Istat. Con l'articolo 2 vengono vincolati i proventi delle vendite per la quota di spettanza regionale al reinvestimento in nuovi programmi, avendo ormai il programma casa esaurito i suoi effetti. Il 3 prevede una prescrizione triennale per il pagamento del bollo auto. L'articolo 4 attribuisce agli autonoleggi la facoltà di pagare la tassa automobilistica in misura frazionata e quadrimestralmente. Il 5 semplifica la gestione delle attività fra l'amministrazione regionale e le imprese autorizzate al commercio dei veicoli. Gli articoli 6, 7 e 8 provvedono a tener fede agli impegni istituzionali assunti dalla Regione al fine di ovviare a eventuali istanze di incostituzionalità e conseguenti possibili impugnative. Il 9 autorizza per gli esercizi 2023-2024 e 2025 il rifinanziamento delle leggi regionali e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa, mentre il 10 e l'11 contengono disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza urgenza. Con l'approvazione di un emendamento presentato dai moderati è stato introdotto l'articolo 1 bis per l'acquisto degli scuolabus che dà priorità ai comuni e ai consorsi che comprano mezzi idonei al trasporto di alunni e alunni con disabilità. Il Consiglio ha approvato la delibera di giunta che assegna 5 competenze in più ad Azienda Zero. Più funzioni per Azienda Zero, a maggioranza con 24 sì e 15 no. Il Consiglio regionale ha infatti approvato la proposta di delibera della giunta regionale che assegna 5 ulteriori competenze amministrative alla struttura. Il coordinamento dell'emergenza ospedaliera, della rete dei laboratori e dei servizi, delle reti di patologia, il coordinamento regionale di epidemiologia e il supporto tecnico-organizzativo e metodologico per coordinare i progetti di investimento in edilizia sanitaria. Respinti i 113 emendamenti presentati dal capogruppo del Partito Democratico per non aumentare le deleghe, ad eccezione di quella sul coordinamento negli investimenti in edilizia sanitaria. Nelle dichiarazioni di voto il Partito Democratico ha annunciato il voto contrario per un provvedimento che a loro avviso può creare inefficienze e lungaggini. Il capogruppo della Lega, annunciando il sì, ha definito il provvedimento un rafforzamento della sanità regionale in particolare per i territori più periferici. Bilancio di previsione 2023-2025, iniziato l'iter d'aula. L'aula ha avviato la discussione sul bilancio di previsione 2023-2025 che, come ha spiegato la relatrice di maggioranza di Forza Italia, pareggia per l'anno in corso a poco più di 20 miliardi di euro, di cui 16,6 di cassa. Circa 11,8 miliardi sono per la sanità, ha precisato, e non sono previsti tagli e aumenti di pressione fiscale. Il secondo relatore di maggioranza della Lega ha evidenziato le voci più importanti e, tra queste, i fondi per i giochi Special Olympics e i 237 milioni per il cofinanziamento del programma regionale FSE Plus 2021-27. Diversi i rilievi dei relatori di opposizione. L'intervento del Partito Democratico da parte del Vice Presidente del Consiglio ha sottolineato le molte promesse assai difficili da realizzare, senza assunzioni nella sanità e fondi per gli ospedali. Libertà di educazione, attenzione ai diritti delle persone con disabilità, sostegno a luoghi di crescita e incontro con miglioratori. Questi alcuni elementi sui quali il capogruppo Moderati ha chiesto attenzione. La capogruppo Movimento 5 Stelle ha ribadito la piena contrarietà ai contributi destinati alle associazioni anti-abortiste con il raddoppio del fondo Vita Nascente. La consigliera Movimento 4 Ottobre Unione Popolare ha annunciato un emendamento per la copertura totale delle graduatorie per i voucher trasporti e libri di testo. Attenzione al tema della legalità, è stata chiesta da parte del consigliere di Europa Verde. L'esame del bilancio di previsione proseguirà nelle prossime sedute d'aula. I vincitori del concorso Il Consiglio ci dà credito istituito dall'Assemblea Legislativa piemontese per gli studenti e le studentesse delle scuole superiori della regione visiteranno il distretto tecnologico di Catania in Sicilia, una sorta di Silicon Valley italiana, con un viaggio premio da domenica 16 a martedì 18 aprile. Sarà presente anche il consigliere segretario dell'ufficio di presidenza con delega ai giovani che ha voluto il concorso in occasione dell'anno europeo dei giovani. La finalità è proporre agli studenti un'occasione di approfondimento sulle tematiche dell'Unione Europea, della transizione ecologica, della transizione al digitale e della cittadinanza attiva. Gli elaborati vincitori sono stati video prodotti dai ragazzi dell'Istituto Cellini di Valenza, intitolati Passi Verdi, Transizione Digitale, la siccità, riciclo digitale. E l'elaborato scritto è in Audi Energy dell'Istituto Einaudi di Alba. Festa della liberazione, fitto il calendario di iniziative organizzate con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale. Il 25 aprile è la festa di tutte e tutti gli italiani. È con questo spirito che si festeggia il 78esimo anniversario della liberazione con eventi e iniziative fino al 15 maggio a cura di città di Torino, Polo del Novecento e con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale. Le commemorazioni pubbliche animeranno i luoghi di memoria dall'ex stabilimento Fiat in Corso Ferrucci alla caserma La Marmora di Via Asti al Cimitero Monumentale. Da Piazza Arbarello si muoverà la tradizionale fiaccolata del 24 aprile alle ore 20 che si concluderà in Piazza Castello con l'orazione ufficiale. Presidio della memoria anche il Polo del Novecento e il Museo Diffuso della Resistenza. Ci tengo a sottolineare alcuni momenti in particolare innanzitutto le giornate di apertura del Museo Diffuso della Resistenza il bellissimo concerto del 25 aprile alle 18.30 qui al Polo sulla partitura di Ezio Bosso che scrisse ispirandosi a quattro lettere di condannati a morte della Resistenza e in ultimo la bellissima operazione che facciamo insieme al Teatro Stabile della lettura in multilingua della tregua. La giornata culminerà con il concerto omaggio alle staffette partigiane di Vinicio Caposela all'auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto in programma alle ore 20.30. Far conoscere le residenze reali di Turino e del Piemonte attraverso una serie di eventi che uniscano sport e cultura. Questo è lo scopo della Maratona Reale a tappe, giunta alla terza edizione. Dopo due anni di stop per la pandemia torna la Maratona Reale ideata da Base Running che toccherà le residenze reali di Torino e del Piemonte e Patrimonio dell'Umanità Unesco con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte e della Fondazione Compagnia di San Paolo. Quattro le tappe in programma. Si comincia domenica 16 aprile con la tutta dritta e la mezza di Torino giunta all'ottava edizione. Seconda tappa il 18 giugno al Castello di Moncalieri. Il Castello di Raconigi ospiterà la terza tappa in programma il 17 settembre. La conclusione sarà il 15 ottobre con l'undicesima edizione della Corsa da Re alla Reggia di Venaria e al Castello e Borgo Reale del Parco Naturale La Mandria. Maratona Reale torna dopo tre anni. È un evento meraviglioso che coinvolge alcune tra le più belle residenze sabaude del nostro territorio. Avremo il 15 ottobre l'ultima puntata di questa maratona a tappe o delle due insomma mezze maratone e nella bellezza dei giardini della Reggia di Venaria che in autunno quasi quasi sono ancora più belli che a primavera. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci. Grazie a tutti.